Amici di Armietiro, siamo all'Armeria Parabellum di Salso Maggiore Terme in compagnia di due pezzi assolutamente unici e straordinari che meritano di essere raccontati e in particolare di raccontare la loro storia. Stiamo parlando di due varianti estremamente rare ed estremamente ricercate della più celebre probabilmente pistola semiautomatica della storia che è la Luger. La pistola inventata, concepita da Georg Luger, modificando, ottimizzando quello che era il progetto di Hugo Borshardt di pochi anni prima, ha avuto anche una declinazione in versione carabina. Questa versione carabina che fu concepita squisitamente per l'attività venatoria più che per compiti, diciamo, tattici o militari, è caratterizzata da una eleganza straordinaria come soltanto le armi di lusso degli inizi del Novecento sono capaci di regalare e si caratterizza per alcune caratteristiche eccezionali. La prima delle quali è, come si può notare, la lunghezza della canna che è pari a 300 mm contro, diciamo, i 120, 100, 140 mm della versione prettamente pistola. Il sistema di funzionamento è sempre il medesimo, quindi a corto rinculo di canna con il classico funzionamento a ginocchiello, ma in questo caso all'interno di questa propagine speciale, che è una vera e propria astina per l'appoggio della mano debole, è stato inserito un acceleratore di rinculo, che è praticamente un pistoncino caricato a molla, che spinge contro un'apposita propagine solidale alla canna per agevolare il ritorno in batteria del complesso quando l'arma va in chiusura. Questo perché ovviamente il peso del complesso canna culatta è maggiore rispetto a quello della pistola. Oltre a questo accorgimento, per la Luger Carabina fu concepita una speciale munizione sia per il 9x19 sia per il 765 Para con carica maggiorata. In realtà poi il 9 Para in pratica non ha avuto un riscontro produttivo, mentre invece la versione in 765 Parabellum ha avuto un riscontro. Le caratteristiche diciamo meccaniche sono ancora quelle, in questo caso, della Luger modello 1900, così come adottata dall'esercito svizzero per esempio. In realtà questa è la versione Carabina nota come 1902, che ha avuto diciamo tutto sommato un riscontro di vendite abbastanza limitato all'epoca. È rimasta in produzione diciamo fino al 1906-1907 con ultimi esemplari assemblati fino alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Si presume, si stima, che la produzione sia stata di circa 2500 esemplari, quindi stiamo parlando di un'arma veramente rara. Caratteristica anche di quest'arma è una tacca di mira speciale con un cursore che consente di regolare, compensare la caduta del proiettile per 100, 200 e 300 metri di distanza. Distanze che probabilmente appaiono ottimistiche, ma bisogna anche tenere presente che quest'arma in effetti, a tutti gli effetti, è stata una delle primissime carabine semiautomatiche da caccia concepite sul suolo europeo. Forse a pesare diciamo sull'insuccesso di vendite è stato anche il fatto che le prestazioni della cartuccia, seppur tra virgolette brillanti per l'epoca nell'ambito delle pistole semiautomatiche, per quello che riguardava l'ambito diciamo di una carabina erano tutto sommato insufficienti. È vero che erano controbilanciate da una rapidità di fuoco diciamo del funzionamento semiautomatico, ma a fronte di quelle che erano le cartucce già all'epoca disponibili per la caccia agli ungulati, come per esempio l'8x57, il 6,5 Malliker-Schöenauer, eccetera, è chiaro che c'era un gap prestazionale tutto sommato difficilmente rimediabile. Anche dopo la prima guerra mondiale comunque si cercò di far risorgere il progetto della Luger intercarabina, dando luogo a una vera e propria sottovariante che è denominata modello 1920. È vero che le condizioni del trattato di Versailles per quello che riguardava le condizioni di pace della Germania, sconfitta nella prima guerra mondiale, erano molto rigorose per quello che riguardava le caratteristiche che potessero avere le armi per l'esercito e le forze di polizia nazionali, ma c'era comunque la possibilità di evadere entro certi limiti a queste limitazioni per quello che riguardava l'export. Molte di queste armi in effetti sono state proposte sul mercato internazionale anche nordamericano. La differenza sostanziale della cosiddetta versione 1920 è che innanzitutto ha il ginocchiello già quello tipico delle versioni dalla 1906 Luger in avanti, quindi senza le sciancrature laterali sulle orecchie, bensì con le orecchie perfettamente piatte e zigrinate anche sui lati. È caratteristica di questa versione una certa variabilità negli allestimenti, nel senso che per realizzare questi esemplari, che sono tutto sommato ancora minori rispetto a quelle della versione 1902. Si parla circa di, c'è chi dice di 500, c'è chi dice 1000 esemplari, non si sa esattamente quanti siano. Comunque furono utilizzati anche, giacenze di magazzino, delle Luger navali modello 1904, ma anche delle Luger artiglieria. In questo caso per esempio la canna è sempre lunga 300 mm, come nella versione 1902, sempre di tipo bull barrel, ma l'alzo è quello tipico a tangente della Luger artiglieria. Completato e impreziosito in questo caso da un'ulteriore variante custom, che è quella di una diottra regolabile in elevazione, che può essere utilizzata in alternativa all'alzo e che quando non in uso può essere distesa o addirittura rovesciata in modo da non creare interferenza. Queste armi, nella maggior parte dei casi, portano l'indicazione Germany o made in Germany, proprio a evidenziare il fatto che sono destinate all'esportazione, in particolare nel mercato nordamericano. Mercato per il quale era previsto che le armi che non erano prodotte sul suolo nazionale contemplassero, diciamo, un'indicazione su quello che era il paese produttore. In questo caso, anche in questo caso, l'arma in 7,65 para, ma della variante 1920 sono noti anche rari esemplari realizzati in 9x19. Si tratta a tutti gli effetti di gioielli, sia per quello che riguarda la qualità costruttiva, che è semplicemente superlativa, sia per il fatto che queste armi hanno caratteristiche completamente diverse da quelle che sono le pistole, appunto a partire dall'astina per l'appoggio della mano debole, che è tipica di una carabina. Nonostante questo, una delle caratteristiche che è rimasta, diciamo, in comune con il progetto della pistola è che il calcio è sempre scomponibile dall'arma rapidamente con un innesto a T e una leva di blocco, principalmente per poter ridurre l'ingombro complessivo nel trasporto, quindi anche le prestigiose valigette di trasporto prevedevano, appunto, di poter riporre l'arma scomposta nei suoi insiemi. L'alimentazione è sempre quella dei caricatori tipo Luger della capacità di otto cartucce, in questo il componente è perfettamente intercambiabile con quello dell'arma corta. Sono gioielli, sono gioielli rarissimi oggi come oggi e ancora più difficile è trovarli in queste meravigliose condizioni di conservazione. Grazie.